Abbiamo 24 ore per riportare qui papà! Ma non so nulla di magia! È la prima volta che faccio un doppiaggio di un cartone animale, mi sembra molto divertente. Mi sembra di diventare parte di quel personaggio. In questo caso ero già un mago, ma qui diventi un mago esagerato. Con un incantesimo devi creare un ponte magico su cui passare. Secondo me la magia esiste e è sempre esistita, bisogna trovarla nelle cose di tutti i giorni. Per esempio io che lavoro spesso in teatro finisco il mio spettacolo teatrale dicendo che le cose che ci circondano, gli oggetti, soprattutto le persone che ci circondano, fanno parte di quella magia che ci trasforma ogni giorno e che ci rende migliori. Quindi non bisogna fare grandi ricerche perché tutto quello che abbiamo, tutto quello che ci serve è già intorno a noi. Quello è magico! Riportare papà in vita non è possibile! Se avessi un giorno in più farei come quello che hanno fatto i protagonisti del film. Passerei una giornata insieme a mio padre, cosa farei? Cercherei di fare tutto quello che non abbiamo mai fatto, che non avevamo mai tempo. Magari andare a fare una vacanza insieme, divertirci, andare al cinema magari. Questo sì! Ce la puoi fare! Bye bye! Ciao!